Aspetta, lei che vive qui, il mercato, e quindi conosce la zona, conosce quelli che sono i problemi, un'idea, un suggerimento per migliorare la qualità della vita di queste zone, ma soprattutto per creare ricchezza e benessere, ma per trovare lavoro per i giovani e per le donne? Per l'Italia pure, o no? Anche per l'Italia, sì. L'Italia è un giardino del mondo. Ecco, allora, basterebbe tenerlo pulito, solo quello, e attingere della natura che ci ha dato, bagnato da tutte le parti. Quindi lei dice che abbiamo il mare, abbiamo il sole, abbiamo il turismo, abbiamo le bellezze naturali, archeologiche, culturali? Seminare 4-5 volte, nessuno Stato semina 4-5 volte, la Russia, quell'altro, tedeschi. Noi abbiamo l'oro e non l'abbiamo, la politica ci ha rovinato. I politici dovrebbero fare quel mandato e poi a casa, quel mandato e poi a casa. Politico, il mestiere politico non esiste, esiste solamente un mandato che ti ho di gestire il mio bene e poi te ne devi andare. Ecco, ma se c'è un politico invece che è bravo, perché devi andare a casa? Non c'è, i politici fanno le leggi per noi e per loro se le fanno sole, non andiamo bene. Questo è tutto. Ecco, ma a parte questo che ha detto sui politici, visto che lei ha delle idee, è stato bravo sul turismo, sullo sviluppo, sulle qualità naturali che ha l'Italia, tutto il territorio nazionale, ci dia un'idea anche per queste zone, un'idea sua, in base alla sua esperienza. Tenerla pulita, il turista che viene è assicurato che non lo rubano, che viene un ospite gradito e rispettato e non aggredito dei prezzi e di tutto. Questo vuol dire benessere, vuol dire venire di nuovo, vuol dire una cosa così. Bravo, complimenti, buon lavoro e auguri. Arrivederci.